Buonasera, buonasera a Milano, scusate le spalle, io di solito per educazione mi esibisco senza. Perfetto, iniziamo. Allora, buonasera, io mi chiamo Stefano Borghetti e per me, che dire, è davvero un onore esibirmi qui. Scusate, ma sposto un attimo l'asta che mi dà fastidio. Scusate, dicevo. No, no, mi sono perso. La rifaccio, la rifaccio. Allora, buonasera, io mi chiamo Stefano Borghetti e per me, che dire, è davvero un onore esibirmi qui. Scusate, ma sposto un attimo l'asta che mi dà fastidio. Scusate. Dicevo, per correttezza, io vi avviso fin da subito di questa cosa. Molto probabilmente, durante questa mia esibizione proverò a mangiarmi delle parole. Mi scuso, però è una cosa che mi piace fare in modo comunque da rendere i miei monologhi più veri e non farli sembrare solamente dei testi scritti e preparati per essere poi esposti su un palco a memoria davanti a un pubblico, che poi è effettivamente quello che sto facendo adesso. È questo, è questo. Ah, giusto. Prima che mi dimentichi, faccio anche quest'altra cosa, altrimenti chi li sente. Praticamente io, ogni volta che mi esibisco, sono obbligato a prendermi qualche minuto per ringraziare pubblicamente le persone che mi hanno messo al mondo e per questa occasione speciale ne ho selezionate due, in particolare i miei genitori, tra cui mio padre con il quale ci conosciamo ormai da molti anni e per me come un figlio e mia madre che invece considero un po' come un secondo padre. Questa è una cosa che dico sempre, ma solamente perché i loro nomi si differenziano soltanto per una lettera. È vero, mio padre si chiama Paolo, mia madre Saulo. Ma torniamo a me, come ho detto, mi chiamo Stefano Borghetti, che poi piccola curiosità, poi continuo. Io in realtà non mi sarei nemmeno dovuto chiamare così, perché i miei genitori all'inizio erano indecisi su che nome darmi, perché a mio padre piaceva molto Stefano, invece a mia madre Borghetti e poi alla fine me li hanno messi entrambi. Sono nato a Milano la bellezza di 22 anni fa, 22, quasi 40.000 delle vecchie lire. Tra l'altro a proposito di Milano c'è una cosa che non sa nessuno, queste però ovviamente non sono le mie uniche caratteristiche, perché io sono miope, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. Per alzata di mano veloce ci sono miope in sala? Nessuno? Nessuno? Tra l'altro non mi avete fatto la domanda che mi aspettava in questo punto, ma vi rispondo lo stesso. Sì, bene possiamo andare avanti. Dicevo, sono miope e ormai sono diversi anni che convivo con questo, non chiamiamolo difetto, che brutto, sono diversi anni ormai che convivo con questo Carmelo e ci ho fatto l'abitudine, questo ultimamente però, invece all'inizio non è stato, fidatevi, non è stato per niente semplice, fidatevi, io nella mia vita ne ho viste tante, ma come ne ho viste io, mai viste. Infatti il giorno in cui scoprì di avere questa cosa agli occhi stavo per cedere, cioè in quel momento ho pensato quello che avremmo pensato tutti, mi son detto eccoci qua, mi hanno diagnosticato la miopia e allora mi licenzio dal lavoro e faccio il giro del mondo. Non avendo però un lavoro da cui licenziarmi, grazie. Dicevo, non avendo però un lavoro da cui licenziarmi, sono stato un po' banale, lo so, però mi son fatto una lista con dieci cose che vorrei fare prima di, non diciamo morire che brutto, dieci cose che vorrei fare prima di Maria Rosa. Uno, importante, richiamare più presto Maria Rosa. Due, visitare finalmente Pordenone. Tre, incontrare il Gabibbo in autogrill. Quattro, convincere il Gabibbo a venire a casa con me. Cinque, conquistare Pordenone. Sei, sei, ristrutturare la cantina. Sette, conoscere persone nuove. Otto, rapire queste persone e nasconderle nella nuova cantina insieme al Gabibbo. Nove, verticale. Dieci, leggere in maniera spontanea una lista con dieci cose che vorrei fare prima di Maria Rosa, che poi effettivamente è quello che puoi fare. Grazie. Grazie.